Un altro caso che volevo raccontarvi, in questa situazione ci troviamo a Milano in una casa di riposo molto importante appunto della città metropolitana, riguarda il fatto che Microlife fu contattata per gestire i rischi o legionellosi che in questa struttura erano oramai fuori controllo. Questo perché già una serie di anziani era stata ricoverata in ospedale, cui era stata diagnosticata appunto la presenza di legionella pneumofila. Microlife quindi giunse in questa casa di riposo, in modo particolare nelle camere delle persone, interessate da infezione, svolgendo l'analisi sulle acque ad uso sanitario e isolando appunto la legionella pneumofila. In questo caso, in accordo con la direzione, si volle intervenire tramite shock termico, quindi innalzando le temperature dell'acqua fino a 70-80 gradi. In prima battuta, i risultati di Microlife sempre sulle acque sanitarie diedero esito negativo, quindi assenza di legionella pneumofila, ma purtroppo, a distanza di pochi mesi dal primo intervento, legionella pneumofila ricompasse in tutto il suo vigore. Ecco che, in accordo agli amministratori di questa struttura, si adottò quindi la via di tipo chimico, installando pompe di dosaggio in continuo di disinfettante nel caso specifico di cloro. Microlife interviene ancora oggi in questa struttura con frequenza semestrale per verificare l'assenza di legionella pneumofila. Assenza certificata.